Entrare in un'azienda come dipendente part-time e diventarne proprietario in pochi anni, non è un sogno da film americano ma è la storia di Andrea Ligi, 24enne lecchese, al centro di un incontro promosso da Confartigianato Lombardia. Io sono entrato in società con Lorenzo Longatelli, titolare della Zelando, per la quale facciamo software gestionali nel settore del feed marketing. La mia storia nasce all'età di 19 anni quando nel cercare di trovare un lavoro per pagarmi gli studi mi sono inserito in azienda con Lorenzo, assunto part-time. Nel frattempo, per non farmi mancare nulla, decisi oltre all'università e al suo lavoro part-time di aprire un'associazione sportiva no profit, arrivai a un punto della mia carriera dove non riuscivo a seguire sia la società, lavorativamente parlando, sia l'università sia la mia associazione sportiva. Pertanto chiesi a Lorenzo di un attimo capire insieme quale poteva essere il mio futuro in Zelando e se c'era posto per me anche full-time. Gli dissi in totale sincerità che il mio obiettivo, se anche lui mi avesse assunto full-time, era quello di aprire la mia piccola Zelando, quindi di mettermi in proprio e potenzialmente potevo diventare un suo competitor. Durante questa conversazione Lorenzo mi fece una risposta che mi lasciò di stucco e ricordo ancora oggi come se fosse ieri che fu Aspetta un attimo, piuttosto ti cedo la mia azienda. Da lì è cominciato un percorso dove ho fatto un po' il parafulmine come dice lui, ho toccato tutti gli ambiti dell'azienda, ho lavorato comunque con uno stipendio entry level, però lavorando come se fossi a tutti gli effetti un imprenditore. L'azienda a quel punto ha avuto un cambio di rotta da 6-7 persone che eravamo col mio arrivo, siamo oggi in 16-17 e ad oggi siamo sia io che lui più felici di entrare in ufficio a lavorare. La vita è fatta di difficoltà, è fatta di problemi, è fatta di continue sfide e se ci tocca seguire delle sfide imposte da altri diventa ancora tutto più difficile.